Sono qua, Anais. Mi è evoluta, sono qua. Ora, dimmi qualcosa. Ormai il film ce lo siamo perso. Mi vedi solo nel tempo libero? Mi passi sopra come un trattore? Sì, la cosa del trattore me l'hai già detta. Buonasera. Daniel Morobaban. Anais. Io prendo le scale, così sta più largo. Tradisci spesso, Emily? Mai, mai fatto. Non ci credi? Certo che no. È lei? Già. In me c'era troppa voglia di intensità. Questa scrive tutto ciò che penso. Ma chi? Emily, la donna di quello. Buongiorno. Lei è Emily Ducre? Così pare. Devo incontrare il mio editore, se vuole scusarmi. Capisco, chiaro. Sono Anais, ti ricordi? Sì, certo, Anais. Sono venuta qui per incontrarti. Ah, ecco. Sto per chiederti un favore. So che può sembrarti strano e eccessivo, ma in questo momento il mio destino è nelle tue mani. Mi prendi in giro o sei seria? Ho bisogno di restare da sola con Emily. Vuoi fare una passeggiata? Chi stai scrivendo? Sei molto indiscretta. Daniela, cosa ci fai qua? Devo chiederti il permesso per vedere mia moglie. Mia moglie? Il tuo senso del possesso è inammissibile. Lei non è tua. Chi sei tu veramente? Chi sei tu veramente?